Questa iniziativa, questo FSR, FSE è veramente la partenza per una ulteriore rinascita della Puglia, specialmente nel settore economico perché ci saranno soldi per favorire le aziende, per l'investimento nelle aziende e per noi sindacati lavoratori dipendenti l'investimento nelle aziende si dovrebbe e si porta a posti di lavoro che poi è quello che a noi principalmente interessa. L'unica cosa che ci auguriamo però è che tutti questi progetti, questi bandi vengano verificati, controllati in modo che siano duraturi nel tempo perché poi la cosa più brutta è garantire dei posti di lavoro e poi questi posti di lavoro dopo un po' di anni venire meno. Quindi noi ci auguriamo che vengano fatte delle progettazioni serie, che la Regione ci sta mettendo tutto un impegno possibile e immaginabile perché questo avvenga. E poi ci auguriamo che tutto questo possa portare intanto a un miglioramento di quella che è la condizione dei lavoratori ma anche delle persone in generale, quindi favorire anche un inserimento di quelle classi poco svantaggiate nel mondo del lavoro, quindi tutta una serie di iniziative che per ciò che ci riguardi possano portare alla diminuzione principalmente della disoccupazione.